buonasera a tutti gli amici di musiche in allegria come avete visto c'è stato un cambio della della sigla perché appunto il nostro sponsor ritoccando s r l ha appunto fatto questa variazione comunque sono molto felice di accogliere nel mio salotto per la seconda volta e un artista l'artista digitale e post produttore fotografico giulio pedaci buonasera giulio buonasera problemi miei siamo partiti ritardo perché tutto andava bene quando poi ho acceso e vabbè questo capita non è un problema e poi avessi fatto io adesso non vorrei dire per carità avessi fatto io sarebbe successo il finimondo comunque l'ha fatto lui tutto deve essere tranquillo vabbè io di tutto voi buonasera guido buonasera ciao guido buonasera benvenuto nel salotto c'è anche martina tutti che stanno collegando tutti i nostri ascoltatori e anzitutto volevo buonasera roberto e volevo anzitutto parlare con giulio perché è una volevo appunto far conoscere l'arte digitale e la post produzione fotografica più nel dettaglio far conoscere appunto questo artista che lavora ricordiamo da oltre 30 anni per per educati adesso anche per il teatro coccia di novara comunque lui ampiamente ci spiegherà tutto e se lui sarà ben lieto di di accogliere di rispondere a tutte le domande alle curiosità che voi che voi porrete una mia domanda giulio ma era questo il tuo sogno da bambino allora come sapete naturalmente giulio è mio fratello lo sappiamo tutti naturalmente e quando lui era ragazzino e io ricordo che lui ciao loredana un bacio grande e giulio dipingeva sempre quindi questo grande questo grande talento e allora io chiedo giuliera questo il tuo sogno questo volevi fare e come sei arrivato quindi anche parlando ai nostri amici a casa in maniera come tu riterrai insomma non troppo elaborata dell'arte digitale questa nuovo a mio avviso insomma ecco lavoro che poco conosciuto e naturalmente la post produzione fotografica allora ti risponderei che questo è ancora il mio sogno nel senso che sto facendo esattamente quello che avevo intenzione di fare e cioè sempre dipinto come dicevi sempre stata la mia passione ho fatto degli studi mi sono laureato in pittura l'accademia delle belle arti e però io avendo tante passioni come appunto la pittura la musica la scultura e poi poi è nata la tecnologia nel senso che si è evoluta dal punto da poter fare quelle cose che adesso in realtà sto facendo quindi diciamo che quando mi sono reso conto una certa età che lavorare e sopravvivere come pittore diventava un po difficile perché le prospettive di poter avere successo era quello di morire anche in modo modo allora ho detto forse è meglio inventarsi qualcosa no scherzi a parte la tecnologia mi ha molto affascinato da sempre per cui ho incominciato a scoprire questo nuovo mondo mi ci sono appassionato e come molti diciamo come me si sono innanzitutto approcciati da un punto di vista proprio amatoriale da autodidatta io pratica ho scoperto photoshop quando uscì la prima versione in Italia da 2.1 se non ricordo male al 2.0 e da loro ho sempre studiato quel programma chiaramente poi andando avanti e lavorando magari dirò come ho iniziato e quant'altro diciamo che poi ho incominciato a fare anche diciamo delle dei corsi di approfondimento con professionisti di altissimo livello per alzare il livello a cui hanno arrivato con le mie sole forze e giulio mi sento con dei rumori di sottofondo forse col microfono quando ti muovi si sente un po come dei rumori ah ok devo stare fermo che per me è difficile perché il mio regista come come può come come si può fare e un'altra cosa giulio per conoscere meglio appunto la tua la tua arte digitale eh tu ehm adesso collabori con il Teatro Coccia di Novara so che sei in partenza il venerdì 12 eh maggio per appunto il ehm per il barbiere di esatto sì il barbiere è la seconda eh immagine il secondo quadro eh digitale che faccio il primo è stato il trovatore che ha eh inaugurato la stagione lirica del 2023 e mh la seconda appunto il barbiere il Nabucco è già quasi in via di completamento perché anche lì poi in pittura digitale eh è un po' anche come la pittura analogica cioè si fa una prima passata un primo step dove si definiscono le forme i volumi e poi si incomincia a dare sempre più a fondo per dare profondità per dare luci ombre molto più eh come dire coinvolgenti in base chiaramente al progetto che uno ha e partendo sempre da un bozzetto chiaramente da un'idea perché l'idea eh viene ascoltando appunto l'opera eh studiandola bene a fondo infatti per il il Nabucco eh è molto è molto particolare come come opera come sta uscendo perché sto facendo uno studio molto approfondito eh per dare vabbè insomma lo vedremo poi il 30 in utili io vi sto a dare tante di quelle indicazioni per cui non posso poi dire che cosa sarà quando arriverà il 30 magari vi farò vedere. Dice Loredana sono curiosissima di vedere il dipinto per il Babbiere di Siviglia che andrà in scena al Coccia di Novara dice la nostra amica Loredana. Sì Loredana lo so che sei curiosa ma devi aspettare. Giulio volevo a questo proposito anche continuare un po' il discorso per i nostri amici a casa ehm tra l'altro tu hai hai presentato il ehm eh il in marzo hai presentato la la mostra Contaminazione con grande successo nell'ambito della rassegna Passione in Musica al Teatro Mazzacorati presentando appunto una una tua eh i tuoi quadri e così di arte digitale. Posso chiederti chi è stato il tuo maestro e eh e che consigli appunto eventualmente daresti ad un giovane che voglia approcciarsi a questo mondo meraviglioso però anche credo molto difficile. Ma tu stai parlando scusami stai parlando della pittura digitale o della post produzione fotografica? No della pittura digitale quello che hai presentato. Buonasera Elena. Sì il ehm allora la pittura non digitale quella eh normale. Ecco vorrei suo senso Giulio vorrei che tu proprio chiarissi ehm ai nostro pubblico a casa in maniera piuttosto anche eh semplice la differenza no? Quindi proprio eh nello specifico l'arte digitale, la pittura digitale, la post produzione fotografica. Allora la post produzione fotografica è un ehm procedimento laddove si crea eh si modificano delle immagini per poterle portare a un livello diciamo così eh di advertising eh cioè di pubblicitario eh un miglioramento della foto. In quel caso l'immagine esiste già. Cioè io eh agisco su delle foto, su degli scatti che siano essi raw. Raw vuol dire eh negativo 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 digitale. Eh sarebbe il grezzo no? In in inglese. Eh però l'immagine esiste. È stata scattata più o meno bene. Questo dipende dal fotografo chiaramente. E il post produttore fotografico interviene ma dopo farò vedere degli esempi. Interviene. Eh ma se volete ve lo faccio anche vedere subito. Finisco con la differenza. Eh interviene per eh fare quelle migliorie che non sono esclusivamente o solamente visive. Cioè è vero che il post produttore migliora le foto eh le rende più belle eh ma ehm le prepara anche per la stampa. Quelle chiaramente che andranno in stampa si vanno sul web e ci sono altri accorgimenti. Per cui eh un buon post produttore fotografico quando dà al cliente l'immagine finita la dà eh in modo tale che il cliente una volta che poi viene passata l'immagine l'impaginato viene inserita la foto viene inserita in un impaginato. L'impaginato viene mandato eh a un service eh di prestampa viene prepara vengono preparate per le lastre e quando si va a stampare lo stampatore non ha problemi. Questo la eh lo stampatore può avere problemi se il post produttore non fa le cose come si deve. Ci sono tante cose tecniche che che bisogna sapere e poi andando avanti magari eh spiegherò anche come ho iniziato e come ho continuato per diventare post produttore fotografico e dare ai clienti quella certa sicurezza di non incorrere in problematiche nel momento in cui io do un'immagine e loro la passano poi allo stampatore ed escono i disastri. Detto questo però si parte da un'immagine. La pittura digitale in realtà eh io i quadri che ho fatto li ho fatti con Photoshop ehm perché io ho dovuto perché con Photoshop perché è un programma che chiaramente conosco benissimo ci sono altri programmi che simulano la pennellata eh il materiale anche però eh nel mio modo di dipingere che è molto simile eh per carità non è che voglio fare delle delle dei confronti ma insomma io eh amo molto Magritte amo molto anche se lui i quadri che faceva il mio professore il mio maestro il grandissimo concetto Pozzati mi diceva sempre Magritte è un è un è un pittore di testa eh ma non di mano cioè non è che lui disegnasse eh o dipingesse bene però eh aveva il suo modo di dipingere l'idea era l'idea di Magritte che creava l'opera poi poteva fare una pipa enorme eh e poi dopo il titolo era Assassin's Empire Pipe e lì era la genialità. Dopodiché eh per dipingere con Photoshop eh si parte da eh lo farò vedere da una tela eh digitale bianca dove bisogna disegnare e si disegna in vari modi eh ognuno sceglie il suo io ho le mie tecniche ma eh ho dovuto creare una procedura per poter dipingere come volevo io su Photoshop perché in realtà non si potrebbe fare nel senso è talmente difficile quello che io voglio fare con Photoshop che o mi inventavo un modo per farlo o altrimenti sarebbe stato impossibile nonostante io conoscessi molto bene Photoshop. Io Photoshop non solo lo studio dalla versione 2 ma eh lo insegno anche lo insegnavo adesso non ho molto tempo ma insomma eh eh a come utilizzare il programma. Per cui ho ideato una tecnica perché in realtà più che pittura digitale diventa quasi scultura digitale. Però non voglio entrare nei tecnicismi. Dopodiché eh non ricordo più che cos'altro mi avevi chiesto no? Questo era. Sì questo come appunto specificare eh l'arte digitale, la pittura digitale e la postproduzione fotografica e quindi anche con degli esempi per i nostri amici a casa e perché no anche per me io finalmente ho imparato tra l'altro io e Giulio ehm lavoriamo insieme da da molti anni eh siamo in lo stesso campo lavorativo pur in due specifiche eh differenze. Eh ciao Carla, ciao Carla, buonasera, buonasera carissima Carla e e quindi sono due eh due mondi eh diciamo che si assomigliano però sono ben distinti e quindi lavorare insieme a a lui è sicuramente esaltante eh gratificante però molte volte motivo di scontro e questo sicuramente ci eh ci fortifica, ci dà eh una ben distinta personalità. Vero maestro? Cosa dice lei? Beh mi chiami in qualunque modo tranne che maestro. Va bene, allora facciamo vedere. Eh Michele il nostro regista, io adesso non vedo se avete condiviso lo schermo. Sì, adesso lo schermo è condiviso. Ci sono tutte le immagini. Faccio vedere se non le ho messe. Ecco qua, per esempio. la differenza, adesso parliamo di differenza tra eh post tra eh pittura digitale e post produzione. Allora in questo caso io per fare qualche esempio facciamo con questo. Allora anzi guardate facciamo una cosa partiamo da questo che qui io qui vi faccio vedere. Questo è quello che preferisco, mi piace tantissimo. Allora questo è questi quadrettini che vedete eh è come se fossero degli acetati, cioè mh è trasparenza questa, non c'è niente. Quindi si crea una forma, viene disegnata, dopodiché si comincia a dipingere. Cioè io in questo caso incomincio a andare sulla forma per definire i volumi. Queste sono quelle che io chiamo la prima stesura, cioè dove io incomincio a entrare nel particolare, ma diciamo così a grandi linee, per costruire piano piano quella che è l'immagine a cui io mi sto ispirando, che in questo caso è l'umanità contro il male. Eh da cui io ho tratto il confiutatis maledictis, che è diventato poi questo. Ecco, questa è l'ultima parte. Una volta che che eh io ho fatto la parte, diciamo così, di eh disegno con volumetria, allora a quel punto entro più nello specifico. Per far capire anche meglio, forse, se io vi faccio vedere questo, per esempio. Ecco, questo è I had a dream. Questo è un Canova. Paolina, aspetta che forse, ah no, era in quest'altro dove si vedeva, aspetta che si vede proprio la tela bianca. Eccolo qua. Questo è il foglio di Photoshop dove non c'è niente, è tutto trasparente. Dopodiché io incomincio a fare la mia forma, incomincio a dipingere, quindi a inserire gli elementi. Ecco, la difficoltà di Photoshop, poi ne parleremo, è quella di costruire in questo modo, con tutte queste ombre che si vanno a sovrapporre con tutto quello che deve diventare poi realistico. Ecco, io per far questo in realtà più che dipingere scolpisco. Dopodiché, se noi passiamo invece alla postproduzione fotografica, postproduzione fotografica è un'altra cosa. Ecco, per esempio, questa è il classico esempio di come colorare con Photoshop. Questo è la Walt Disney, mi mandava le chine e io traevo poi dalle chine quello che era poi il fumetto che volevano. Dopodiché, però, la postproduzione fotografica è questo. Allora, arriva il cliente e dice, bene, io ho questa foto. Questa foto, siccome lui ha vinto, Quartararò, deve diventare un'immagine pubblicitaria. In questa foto qui, che è stata scattata, chiaramente, in una determinata situazione che è in lontananza, perché lui è sopra il palco di chi ha vinto, che, insomma, non so come si chiama, insomma, il fotografico scatta e ci sono varie problematiche, come vedete. Queste righe che voi vedete sono i figli della ringhiera, per evitare che, insomma, non lo so, che cada, che cada, non lo so. Comunque, mi dava fastidio, è stato enormemente difficile toglierlo e ricostruire, per poi fare un'immagine che il cliente voleva. Dopodiché, ma non è solo quello, la postproduzione è perché magari, questo è un interno di uno yacht, e vengono rifatte, vengono rifatti gli interni, ma rifatti nel senso che vengono cambiati i materiali e il cliente, chiaramente, piuttosto che richiamare il fotografo, farlo venire, riallestire e quant'altro, chiede al postproduzione. Bene, i lenghi sono cambiati, non sono più lucidi, come vedete qui. Dobbiamo togliere la lucidatura, dobbiamo cambiare la modannatura, questa seggiola è diventata più cru che gialla e il postproduzione deve fare tutto questo. E il postproduzione lo fa. Cioè, si passa da un'immagine che ha questo tipo di effetto a un'immagine che non ha altro. Poi, chiaramente, per esempio, le cose cui molti non notano sono i riflessini che ci sono, che in questo caso sono in questo punto, ma tante volte potete divertirvi a vedere magari delle postproduzioni fatte male perché, che ne so, tu vedi una foto dove nei riflessi c'è qualcos'altro. Ecco, lì è passato un post produttore poco attento, faccio per dire. Insomma, oppure, ecco, per esempio, anche questo è un esempio di una modella molto bella, ma non abbastanza bella e non abbastanza, come dire, affascinante la foto. Interviene il post produttore e dà un cambiamento anche alla modella, cioè gli toglie quelle che sono magari imperfezioni dovute a una luce sbagliata, al posizionamento di luci sbagliate, a un trucco un po' pesante perché era messa in quella posizione, perché lei è comunque una gran bella donna, però in quella posizione lì era venuta male, ma la foto era bella e quindi è stata, diciamo così, salvata dal post produttore che ha fatto, parlo sono io, insomma, non è che l'ho fatta fare, quindi sono intervenuto per ammorbidire certe linee, tipo, che so, qui si era incassata nel suo collo, è stato tirato sul collo, è stato pulito quelli che sono i vari difetti dovuti appunto al trucco, che era un po' pesante, non era molto elegante come trucco, quindi è stato reso anche più elegante. Ecco, adesso possiamo tornare senza il video, eccolo qua, perfetto. Veramente molto interessante, giuro soprattutto molto chiaro, perché come, molto chiaro perché io parlo, insomma, per me stessa, ma io non sono naturalmente un amante della tecnologia, però confesso che, insomma, era molto chiaro quello che tu avevi detto, quindi magari posso avere un po' di speranza, ecco. Questo lo escluderei io a priori. Grazie della fiducia, veramente sempre grazie. Dopodiché, tutto questo chiaramente, come dicevo, giusto poi magari per entrare un po' più nel dettaglio, è nato tutto appunto, prima di tutto, dalla pittura. Dopodiché, con la pittura è nata, c'era già la passione, ma quando insomma sono usciti i computer, quelli che si potevano usare per fare cose più interessanti, ecco. Quindi sto parlando dei vecchi PC 286, insomma, che davano la possibilità di lavorare in un certo modo. Ecco, a quel punto io ho iniziato, passando giornate, nottate, dalla voglia di imparare, dopodiché ho iniziato, prima di tutto, come grafico pubblicitario. Il mio inizio è stato esclusivamente, prettamente come grafico pubblicitario. Però a me interessava molto la manipolazione dell'immagine, perché chiaramente, venendo dalla pittura... Allora, Mario dice, Francesco, ma la tecnologia, dunque come si vuol dire, ci si nasce, ci si vive. Ormai carta e penna via, hai ragione Mario, pienamente. Ma io purtroppo, guarda, infatti penso, questo è anche un motivo di scontro con mio fratello, perché lui molte volte giustamente rimbrotta, affettosamente, ma non troppo, insomma, sul dovermi aggiornare, insomma. Però dai, ci proviamo. Comunque, in ogni caso, il fatto di iniziare con la grafica pubblicitaria, chiaramente, era la strada più breve per entrare, per entrare in questo mondo. Dopodiché, la voglia di manipolare delle immagini, di poter agire, mi ha portato a studiare molto approfonditamente Photoshop, per cui io sono entrato in una gestione più pittorica, artistica, imparando ad utilizzare Photoshop, imparando a lavorare con la manipolazione delle immagini, fino ad arrivare ad avere i primi clienti. Dopodiché, ho visto che la mia conoscenza di Photoshop non bastava. Dovevo conoscere anche quello che era tutto il flusso di lavoro. Quindi, cosa succedeva quando io passavo le immagini ai miei clienti? Come poter dare al cliente la sicurezza che non gli stessi dando magari una cosa che a video era bella, però dopo in stampa. Perché questo è un bel problema. Cioè, quando noi lavoriamo sul... Guardando il monitor, per esempio, Francesca, io sto vedendo il mio monitor e vedo il tuo colore della pelle, il mio colore della pelle, quando guardo un'immagine... Evita di criticare, per favore. Eh? Evita di criticare. Ho sorvolato di fare commenti, ma in ogni caso... Ecco, grazie. Volevo dire, quando vedo te è una cosa, quando vedo me... Certo, ovviamente. Io vedo magari un certo tipo di colore che vengono interpretati dal monitor in una maniera che non è detto che sia quella in cui la vedi tu. Qui stiamo parlando di calibrazione. Adesso le cose sono cambiate, io chiaramente presi un monitor di altissimo livello con lo spettrofotometro per calibrarlo, insomma, adesso io il monitor che ho, che è di ultima generazione, è un monitor autocalibrante. Però non bastava. Perché? Perché dovevo imparare quello che era dietro le quinte. Già il post-produttore, per capirci bene, il post-produttore è una professione che pochi conoscono. Io con te ho fatto veramente fatica a farti capire quando dicevi se mio fratello è un grafico. No, non sono un grafico, lo sono stato. Perché il post-produttore... Alla fine l'ho capita, eh? Sì. Alla fine il post-produttore fotografico è colui che dietro le quinte è come se fosse il regista dell'immagine. Cioè, ci sono i fotografi, ci sono le agenzie di comunicazione, le di pubblicità, che prendono la scena. In realtà, dietro, ci siamo noi che fanno, appunto, mettono a posto, rendono gradevoli, belle, non problematiche, le immagini che vengono fatte dai fotografi, ma non perché vengono fatte male. A volte sì, ma insomma, perché una foto, per andare in stampa, deve avere certe caratteristiche. E comunque, la foto perfetta non esiste. Ma non siamo noi, adesso, che facciamo post-produzione. I fotografi di una volta facevano post-produzione direttamente, analogicamente, e cioè con l'utilizzo degli acidi. chi sa usare Photoshop si rende perfettamente conto che alla fin fine noi lavoriamo come se stessimo lavorando in camera oscura, soltanto che quando lavoriamo in post-produzione noi lavoriamo in camera chiara, si chiama. Cioè, noi lavoriamo come se stessimo utilizzando degli acidi. Detto questo, la post-produzione fotografica lavora dietro le quinte. Per cui, pensa che il mio commercialista mi ha inserito in una categoria che non è quella cioè, non mi può inserire come fotografo, non mi può inserire come, che ne so io, artista musicale, perché i codici a teco non ci sono neanche per la nostra professione. Questo però è anche un bene perché diventa la nostra è una professione di nicchia che pochi conoscono e pochi sanno fare a un certo livello. E' vero. Questo è evidente che per conoscere meglio e ritorno a quello che stavo dicendo prima, io ho deciso di entrare, io già lavoravo per la Walt Disney, Italia, Europe, lavoravo per per il Diotto, insomma, però sono entrato e questa è una cosa che io consiglio molto ai ragazzi quando me lo chiedono, sono entrato senza far dire niente in una fotolito senza dire che io già sapevo eccetera eccetera, perché io volevo imparare quello che era dietro le quinte. E' chiaro che dopo i primi due anni poi sono diventato il responsabile della grafica e della prestampa perché chiaramente io già lavoravo a un livello che era notevolmente superiore a quello che poteva essere un ragazzo che sta dentro una fotolito sistemare. Però io ho imparato moltissimo, ho imparato quello che succede a un file quando poi viene messo nella produzione di lastre o comunque di stampa digitale, insomma, come fare per arrivare a quello che io vedo sullo schermo deve venire stampato. Se il cliente me lo approva perché io alla fotolito avevo i clienti venivano a vedere direttamente oppure si fa la prova colore certificata quando il cliente dice ok non ci devono essere problemi. Ecco, una cosa che io consiglio veramente moltissimo due sono le cose che consiglio moltissimo studiare il manuale perché di libri ce ne sono tanti per carità di video ce ne sono tanti anche io ne ho fatti per divertimento però bisogna studiare il materiale il manuale e andare a fare un periodo di apprendistato in una fotolito in un service di prestato sto diventando noioso? Magari volevo velocizzare un pochino Giulio scusami volevo chiedere ancora una cosa abbiamo naturalmente è molto interessante il fatto che tu faccia vedere le fotografie scusami le fotografie le immagini se ne abbiamo altre magari chiediamo al regista però prima abbiamo delle domande le mettere in ordine di apparizione per favore chiedo al mio regista abbiamo Guido Villa che chiede ecco molto interessante una domanda Giulio cosa pensi della intelligenza artificiale applicata al campo artistico? so poco ma intravedo sviluppi inquietanti ai miei aspetti no 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 Guido sì però in realtà l'intelligenza artificiale la stiamo già usando almeno noi post produttori nel senso che non viene utilizzata perché faccia le cose ma viene utilizzata perché faccia meglio delle cose che già facevamo mi spiego quando io sviluppo un file raw se il fotografo non ha aperto abbastanza o ha sbagliato i tempi di esposizione cosa succede? si crea quella che si chiama normalmente rumore nel colore chi è fotografo fa sa benissimo che per esempio se io faccio una foto in un ambiente non ben illuminato che cosa succede? che il sensore non riesce a percepire percepisce meglio la sovraesposizione piuttosto che la sottoesposizione cioè se io tengo un'apertura per cui lo scuro non viene assorbito bene dalla macchina perché non ha avuto il tempo di prendere le informazioni io vedrò se vado a ingrandire una foto vedo dei puntini là dove è scuro in realtà non è proprio scuro e sono tanti puntini rosso verde blu che vanno a sporcare ecco quello si mette a posto con la postproduzione adesso per esempio io se voglio togliere del rumore lo faccio meglio applicando a quando sviluppo con bridge in camera raw e sviluppo il negativo digitale io gli dico ottimizza cioè migliori migliora il rumore utilizzando l'intelligenza artificiale è evidente che quello che abbiamo visto noi e cioè le immagini di Trump che viene arrestato faccio per dire o i quadri che vengono rifatti al computer da l'intelligenza artificiale e sì non di tutto tutto può essere inquietante o meraviglioso non è lo strumento è chi lo usa eh certo grazie se io con una macchina devo andare farmi mille chilometri preferisco farlo in macchina piuttosto che su un cavallo se poi con quella macchina la utilizzo per andare a fare il matto perché mi piace correre anche quando passo in mezzo ai paesini e quello che è lì il mostro sono io non è la macchina benissimo molto chiaro Giulio andiamo avanti con le domande abbiamo ancora Mario che dice sempre in ordine per favore chiedo al mio regista dice povero fratello insomma Francesca Photoshop dunque è una grande cosa multifunzionale di cui di cui uso per fotografia ok e poi abbiamo signor Giulio dunque ho sviluppato foto con camera oscura con piccole lampadine rosse che fatica però molto simpatico Mario e abbiamo ancora la nostra Betti che chiede a Giulio Betti dice ma se il cliente non ha uno schermo calibrato o decente e si lamenta perché vede i colori diversi e come rispondere come rispondere Betti guarda questo succede sempre il problema è che purtroppo il problema principale è che dovrebbe parlare con il post produttore stiamo parlando di clienti almeno io parlo dei clienti miei che sono clienti di aziende aziende di Automotive Vedefure ma non non la persona il privato diciamo così cittadino perché in quel caso in qualunque mestiere arriva quello che fa sempre delle domande assurde perché non conosce niente e fa polemica però il problema cosa dico io la cosa che dico fondamentalmente quando io mando qualcosa al cliente gli chiedo prima di tutto dove poi andrà a verificare questa cosa soprattutto dove la vuole mettere cioè se quel cliente vuole utilizzarla su il monitor perché la vuole mettere sul social sto parlando di privati chiaramente perché immagino che sia la casistica più ampia se io ho un cliente dovessi avere un cliente che dice io voglio mettere a posto questa foto questa foto la passerò sui social bene io so già che sicuramente quell'immagine andrà lavorata sempre lo dico perché chi sta vedendo questa trasmissione probabilmente a parte le curiosità ma un minimo di Francesca di informazione tecnica la devo dare le immagini vanno lavorate sempre in Adobe RGB però perché perché ha un gamut più ampio dopodiché se io so che il cliente deve portare la foto esclusivamente sul web gli dico bene tu lavora in Adobe RGB o meglio io la lavoro in Adobe RGB ma gliela passo in SRGB perché l'SRGB è il profilo colore che viene visualizzato in su internet ok grazie però aspetta perché alla fine non ho risposto questa è una premessa già quello dall'idea quando il cliente dice sì ma io la vedo in questo modo mi è successo spesso che qualcuno dicesse anche di aziende laddove c'era il manager che diceva sì ma io la vedo no allora se vuoi stare tranquillo io ti dico poi hai due due modi per stare tranquillo uno il primo è che facciamo una prova colore certificata e ti arriva la stampa punto perché io non posso risolvere i suoi problemi perché lui giustamente è il manager che però è il capo che vuole vuole dire da qualunque su qualunque cosa e dice sì aspetta la foto prima di dare l'ok devo vederla io perché sono il padre padrone sai quante volte è successo però guarda su un monitor che fa schifo allora lì l'unica cosa è dire guardi o viene da me a vederla sul mio monitor o altrimenti io le do una cosa fa fare facciamo fare una prova di stampa ma anche non certificata a quei livelli intendo cioè voglio vedere come viene la foto prima di mandarla su internet bene e a quel punto io ti faccio vedere che la foto è fatta bene se tu poi quella foto avendo la stampa davanti e guardando l'immagine della foto che ti ho mandato sullo schermo la vedi completamente diversa stai tranquillo che il problema è solo tuo tutti gli altri la vedranno più o meno il problema poi è dirlo dice Betti l'ultimo aggiornamento di LR ha aggiunto la riduzione del disturbo sfruttando l'intelligenza artificiale mi sembra che sia nettamente migliorata specialmente nel togliere il rumore rosso hai avuto modo di sperimentarlo? si Betti l'ho sperimentata effettivamente devo dire la verità per togliere il rumore in realtà io facevo delle cose che erano delle tecniche molto avanzate cioè la dico così poi intanto chi la capisce si perché considera che noi comunque non siamo professionisti in questo campo la maggior parte delle persone conosce lo spazio quadricromatico lo spazio RGB questi ecco io per togliere certi rumori importanti entravo in uno stamp in uno spazio cromatico lab che molti non conoscono per cui e questo lo dico perché quando la postproduzione fotografica viene fatto a un certo livello nel senso pesantemente e consapevolmente ci sono tantissime possibilità per risolvere le cose molto bene l'intelligenza artificiale effettivamente ci fa lavorare più velocemente perché quelle cose che io facevo che già le facevo già le facevo da anni perché utilizzavo delle tecniche avanzate che mi consentivano di fare quello che l'intelligenza l'intelligenza artificiale fa in 4 secondi dico 4 secondi perché ho sperimentato appena siccome io sempre chiaramente la creative suite aggiornata perché ho l'abbonamento e il mio lavoro per cui appena uscito sono andato subito a verificare di cosa stavo parlando effettivamente fa molto bene molto bene in pochissimo tempo e l'ho sperimentato su un'immagine molto grande molto disturbata chiaro dipende anche dal computer che deve essere performante però sul mio computer 4 secondi ha risolto 4 secondi sto esagerando in meno di 3 secondi ha risolto una cosa che si faceva ma con un po' di ecco posso parlare io adesso? o il monologo è finito? parla dico più interessanti però ecco volevo soltanto di chiedere Giulio hai portato delle altre immagini però sempre sull'arte digitale a questo proposito volevo chiedere chi è stato il tuo mentor il tuo maestro e una domanda questa è una mia curiosità personale quanto contano le emozioni? so che tu ti lasci portare molto vivi a pieno tutte le emozioni e molte volte questo è anche un motivo di scontro di noi due però tu Giulio con Windows c'è Mario che ha un'altra domanda allora Mario qui tu stai parlando di sistema operativo io lavoro con il Mac però non c'entra niente nel senso tu con Windows puoi prendere se ti riferisci alla Creative Suite Photoshop Creative Suite Creative Suite vuol dire tutto il pacchetto Adobe cioè Illustrator InDesign Photoshop After Effects Premiere insomma tutto ecco perfetto Mario cioè tu prendi poi metti adesso non si compra più si noleggia io avevo l'ultimo che ho avuto era il CS6 dopo hanno fatto la CC Creative Suite la CS scusami no mi sono confuso con il CS troppi nomi sì no troppo complicati questa mattina che sto lavorando al computer quindi parlarne faccio fatica dopodiché che cosa succede che su Windows tu puoi installarla sì tu puoi installarla infatti con Mario quindi stiamo parlando di poi il sistema operativo che sia Mac OS piuttosto che Windows non è importante ok grazie tornando al discorso di prima Giulio quanto contano le emozioni tu le vivi a pieno il fatto appunto della tua arte digitale quindi queste bellissime immagini questa mostra che tu hai portato al teatro Mazzacorati io vorrei che tu ne parlassi a pieno facendo vedere le immagini ai nostri amici sì non tutte nel senso che ne ho preparata qualcuna ecco se certo quello che tu riterrai se Michele ecco il nostro regista vediamo un po' dunque dove che stavo poi tra l'altro vorrei anche che tu parlasse ai nostri amici come vivi la nascita di un quadro c'è tutto un percorso tu anche però volevo anche poi perché non so quanto tempo abbiamo ancora far vedere anche qualcosa che si può fare certo certo facciamo ecco facciamo guarda io me avevo preso questa è un'immagine questa così no Francesca è bella chiudiamo la trasmissione che bella ecco questa è bella wow ma l'immagine di partenza è questa allora questa no io con la fotografia dicevo va bene Francesca allora il la 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 casistica anche quando io ho messo ho detto che sì magari far vedere qualche qualche procedura veloce però chiaramente eh la vedo un po' difficile di farla adesso adesso vediamo un po' cosa si può fare allora questa è una è un'ora Giulia voglia eh è quasi finita eh sono 40 minuti dobbiamo litigare subito Giulio guarda Francesca che cambio foto eh allora questa è un esempio che eh a cui io ho fatto eh una post produzione veloce eh per far vedere come da un'immagine che sembra persa eh si può arrivare a tirar fuori qualcosa di più significativo come questo dove io ma volendo Giulio io parlo da persona appunto che non sono eh del mestiere si può fare per esempio questa è la tua idea ma un altro per esempio può avere un'altra idea o rimane sempre quel colore questa no no allora questa è è una bella domanda quella che hai fatto nel senso sembra strano eh quindi però eh lo dici pubblicamente veramente c'è proprio Photoshop ha una grande ha una grande eh caratteristica ha una grande caratteristica che è quella di eh dare la possibilità ha detto Mario Francesca tu sei la conduttrice ma non maltrattare il tuo fratello che al sai in gamba va bene Mario lo faccio solo per te guarda sarò educata solo per Mario ecco allora le prossime volte che ti chiamo al telefono ti metto in viva voce con Mario però ecco il discorso il discorso è il discorso è con Photoshop si possono anzi eh togliamo un attimo togliamo un attimo la eh così eh se se mi rimetti un attimo ecco il discorso è questo Photoshop si può può fare una cosa in tantissimi modi in tantissimi c'è un solo modo però quello che è il più corretto quello che non va inficiare dopo il risultato eh quando tu lo mandi o su un device piuttosto che su un altro istante ma i modi mh per fare eh una post-produzione fotografica sono veramente tantissimi questo vuol dire che io posso fare quella che avete visto di eh post-produzione fotografica io in realtà quella post-produzione fotografica l'ho fatta in pochissimi passaggi perché? perché conosco a fondo il programma quando io faccio qualcosa tu dici sì ma un altro la può fare certo un altro è come scattare una foto eh la due persone fotografano la stessa anche in studio quindi in una zona protetta dove ci sono le luci giuste dove c'è tutto perfetto ma vengono due foto diverse perché è evidente uno scatta in un modo con la sua tecnica di fotografica e l'altro con il suo ma la post-produzione fotografica sì è vero si può fare in tanti modi ma questi modi possono diventare quando si fa una post-produzione fotografica non proprio molto consapevole diventa un problema sia verso se stessi nel senso di dire ma cosa devo fare per ma soprattutto diventa anche un grosso problema sto parlando di hardware perché io per fare una cosa faccio adesso tu Francesca queste cose non le capisci ma grazie il 99% sì ma tu no però quando si lavora nella post-produzione si va a livelli unico neurone funziona ma anche quello è fallato questo questo tipo di lavorazione che si va a livelli può diventare enorme dove un file che pesa 10 mega faccio per dire va a finire che diventerà 200 300 megabyte quando tu quei 10 mega li puoi far diventare al massimo 30 arrivi allo stesso risultato ma in molto meno spazio questo perché lo dico perché molta gente e sembra una cavolata spende tanti soldi ma tanti perché non ha più spazio perché deve fare archiviazione però i suoi faccia io quando lavoro un quadro parliamoci chiaro quando io lavoro un quadro non faccio io dipingo solamente ma quel quadro lì quando lo apro per la lavorazione io sono arrivato a un massimo di quasi 15 gigabyte quasi 15 gigabyte ma tu non hai capito niente 15 gigabyte per te non vuol dire nulla ma chi ci ascolta ma nelle post produzione ma quello è un altro tipo perché il lavoro ad altissima definizione a 16 bit in formati enormi perché quelle robe lì vengono poi possono diventare la qualunque possono diventare enormi come piccoli Mario dice Francesca ti fai offendere ti fai offendere sul tuo unico neurone dice che è impallato no che cosa succede che sapendo lavorare meglio in Photoshop nella post produzione si risparmia non solo tempo ma anche soldi perché se uno lavora molto quindi lavora molte foto che poi deve chiaramente archiviare perché non è che ognuno di noi conserva i file di lavorazione però che cosa succede se lavori male questi file pesano il triplo il quadruplo anche dieci volte quello che potrebbe pesare se lavorassi meglio uno due il conoscere bene Photoshop ti dà anche la velocità nel fare le cose cioè a me quando viene un cliente non mi dice ok questa è la foto che famo no il cliente dice bene io voglio che questa foto diventi bellissima va bene però voglio che questo deve diventare di questo colore questo lo voglio più in primo piano insomma ti dà tutte le indicazioni e poi ti fa la domanda fatidica quanto costa e nel tempo me lo consegni allora se io voglio fare questo mestiere io devo sapere esattamente quanto tempo impiegherò quindi quando io vedo il il rough piuttosto che il layout piuttosto che anche solo non vedo le immagini ma mi dicono me lo scrivono cosa vogliono e l'immagine sarà più o meno no vogliono sapere quanto ci impiegherò a farlo e quanto costerà e lì non puoi dire vabbè sparo una cifra poi se va bene va bene se poi no lì devi se no il cliente chiaramente però che cosa succede vabbè quando ti scrivono le cose devi immaginare e poi gli dici preventivo di massima chiaramente ma quando l'immagine te la fanno vedere e ti dicono bene Giulio per esempio questa foto qui dove io vedo il tuo schermo mi devi togliere quell'armadio da dietro e metterci un altro che so come se tu fossi in campagna ok bene e il lavoro non ho fatto questo ma su un cliente di cui non posso dire il nome perché sto lavorando per lui in questo momento però mi ha dato delle immagini degli scatti aggiuntivi e io ho dovuto comporre quella che poi diventerà una pubblicità ma io ho dovuto farlo prima il preventivo le immagini mi hanno dato solo dei draft fatti velocemente da loro della serie io qui qui c'è una cosa qui c'è una cosa la tolgo perché la devo mettere là dove c'è Francesca ok e quindi tutta una composizione di immagini con fuochi diversi con luce diverse allora che cosa succede se io conosco bene il programma o quantomeno cerco di arrivare a conoscerlo bene io sono più di 30 anni che lo faccio questo mestiere e in 30 anni non ho mai scagliato una consegna o meglio negli ultimi 15 anni non ho mai scagliato una consegna che cosa succede io devo immaginare le lavorazioni che devo fare anzi per poi dare appunto tempistiche e prezzi ti dirò anche di più una se volete per non annoiarvi un come diceva il più famoso un anetto un anetto un cliente una volta mi chiese chiaramente io non posso fare i nomi doveva fare un servizio fotografico dall'altra parte del mondo ma e quindi doveva portare stiamo parlando di macchinari con con le ruote mettiamola così non faccio il nome ma insomma doveva portarlo dall'altra parte della terra ok e la richiesta era stata bene noi scatteremo di giorno ma vogliamo che tutte le immagini vengano come se una moto fosse stata fotografata di notte ok dici se si può fare ok lì non mi chiesero preventivo perché chiaramente dici solo se ci può fare se si può fare perché così noi prendiamo queste cose con le ruote le mettiamo su una nave le portiamo dall'altra parte del mondo scattiamo le rimettiamo sulla nave quando ritorniamo da te ti diamo le foto e tu ci devi fare il lavoro fatto bene la responsabilità era enorme come puoi immaginare io mi pensi mezza giornata per pensare per pensare per ideare la procedura mi feci mandare una foto più o meno di come sarebbe stata la foto e diciamo così scattata a quale ora bene io dopo di che dissi si si può fare ma dovete scattare e gli devi anche le ore in cui scattare perché la luce mi arrivava in una maniera diversa visto che andavano questi oggetti con le ruote andavano anche nelle città la problematica erano appunto le ombre del sogno quindi tutto questo per dire che io adesso vi faccio vedere cosa si può fare si può fare la stessa cosa in tanti modi che possono essere migliori o peggiori comunque migliori la foto la manipoli dopodiché la bravura è diciamo così il miglior modo per fare una cosa è farla consapevolmente quando io so che devo arrivare a quel come arrivare a quella finalità nel miglior tempo possibile e possibilmente senza sbagliare comunque giusto per dare e adesso chiedo sempre alla regista se ci può far vedere ecco io per esempio per far vedere una procedura veloce perché se no poi va a finire alla fine che faccio vedere molto poco in realtà faccio vedere degli esempi di post prima di tutto per esempio ecco questa è una cosa per esempio abbastanza assurda ok questo non potevo togliere il cliente ma insomma questo è in pratica è una foto fatta da un fotografo in studio il cliente era un prototipo questo voleva la richiesta è stata noi dobbiamo questa è una bottiglia tagliata ok noi vogliamo che questo 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 bicchiere abbiamo deciso che non sarà più del colore della bottiglia però le foto sono state fatte lo possiamo passare a color trasparente e chiaramente farlo diventare più bello sì bello wow prima eh già è sempre quello la cosa che è stata fatta qui è stato alzato perché lo volevano più alto ok però quello che c'è dentro qua dentro qua dentro e tutti i riflessi di cui parlavi prima Giulio anche qui queste robe qua sono le che erano qua ok sì è la stessa cosa quindi io ho dovuto rendere trasparente il 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 vetro e portare poi quella colorazione ma tanto per far per far capire questo mostrerò una foto di un mio un mio caro amico un fotografo naturalista spero che non ne abbia ma insomma serve per far capire quando lui è molto bravo a fotografare chiaramente quando ti trovi a a dover fare uno scatto dove devi scattare perché se no quella scena la perdi ok che cosa succede lui ha fatto questo scatto per far capire che io quando faccio post produzione non sto facendo pittura digitale non sto creando nulla che già non sia all'interno mi spiego meglio questi colori questi colori ci sono non li ho messi io li ho solo svelati tu dici eh ma come fai eh poi dopo è evidente che c'è un po' ma questi colori non li ho messi io non sono andato col pennello a fare cioè impazzisco una roba del genere cosa faccio la faccio pagare decine di migliaia di euro una roba del genere se dovessi io dipingere questo e questo è tutto all'interno di questo negativo digitale lo vedete io l'ho esaltato anche il blu è molto bello tutto questo che sembra e poi qui ho girato la luce vedete se voi notate qui c'è una macchia nera ed è più chiaro fuori lo vedete sì ok io ho girato la luce qui l'ho esaltata per dare ancora di più enfasi al fatto che lui dà da mangiare a lei ma è quasi un bacio però se io non avessi messo questo comunque in ogni caso io ho dato luce all'interno ho dato luce alla scena e qui Francesca è una cosa la domanda che hai fatto tu è molto giusta qui quando mi hai detto sì ma parliamo anche della pittura ecco qui per sapere come fare a gestire un'immagine bisogna guardare i grandi maestri del passato per capire dove deve andare lo sguardo cioè la prima cosa che io guardando questa foto la prima cosa che penso devo girare la luce la devo mettere là dove serve e quindi serve lo studio che appunto che tu giustamente dicevi prima tutti tutti allora non dico che uno per poter fare questa roba deve fare una pittura deve studiare e laurearsi in pittura no per carità aiuta ci mancherebbe altro infatti io poi dipingo anche digitalmente però la cosa importante è guardare come i grandi pittori facevano i loro quadri ma studiarseli proprio dal punto di vista ma che cosa mi vuole raccontare qual è la storia e quindi ora il discorso anche delle emozioni volevo Giulio anche leggerti delle domande che abbiamo di Betti si può vedere un dettaglio del piumaggio e poi Mario dice abbiamo ancora Mario che dice stupendo sì i colori riesco a cambiarli anche io uso anche inverti non so che cosa sia Mario io non ne capisco diciamo diciamo che no non sono invertiti i colori i colori in realtà se tu inverti i colori fai il negativo del colore no lì lì vanno proprio e in fase in fase di sviluppo dell'immagine perché quelle immagini possono essere tirate fuori in quel modo diciamo così si può fare anche se non sono dei negativi digitali ma è veramente è veramente più facile farlo più facile per modo di dire ma insomma grazie Mario fare anche con delle immagini che sono state già chiuse sto parlando di JPEG di TIFF il problema qual è che quando il fotografo mi dà una foto in TIFF o in JPEG il problema è che lui oramai ha già fatto lo sviluppo e l'ha congelata io la posso comunque ulteriormente migliorare e tirar fuori quello che lui neanche immagina si possa tirare ma è evidente che lavoro con una mano regata di Tedroschi cioè grazie posso fare molto di più grazie il dettaglio del piumaggio chiedeva Betti siamo quasi giunti alla fine proprio di questa bellissima chiacchierata molto interessante persino io ci ho capito qualcosa quindi vuol dire e giuro che sei stato molto esaustivo chiedeva Betti un dettaglio del piumaggio ti faccio vedere qua Betti che qui si vede meglio allora guarda Betti qui aspetta che ti tocca vedi qui ci sono tutti i miei puntini per prendere le le il dettaglio del colore allora questa è una foto dove tu dici bene ok questa l'ho fatta per un corso per far vedere fin dove si può arrivare quindi anche un po' estremizzata in alcuni punti ma lascia perdere perché l'ho fatta forse l'ho fatta proprio durante un corso ti faccio vedere tu guardi questa foto e dici come faccio sì c'è c'è tutto c'è tutto basta saperlo tirar fuori è vero questo qui ho fatto un po' più forte per far vedere anche per quegli effetti delle gocce questo lo feci per un workshop lo preparai come esempio per far vedere come da questa foto dove tu dici non c'è niente perché anche se vai a guardare nei canali io sto guardando i canali no ok red green blu ok poi ti faccio vedere la mia red green blu cioè è un'altra cosa allora guarda questo è il blu della foto prima e questo è il blu della foto dopo ok ma qui ora con le curve cioè io non vado a prendere le curve perché non è quello ci sono delle tecniche avanzate che ti portano a dare quello che poi ok è un'altra storia ecco qui io sto raccontando la storia di questo fenicottero qui ho una foto è una normale foto qui invece sto raccontando una storia quando dicevo guardate i grandi maestri cioè dovete capire che cosa bisogna fare perché io possa raccontare una storia perché se no di queste foto qui se ne fanno 3000 poi dopo sì io posso aggiungere una curvatura laddove scurisco schiarisco ma non vado a prendere mai per quanto io possa scurire e tirar fuori comunque non riesco ad arrivare a quel livello dove dove tirar fuori vedete dove metto una cosa vado a inficiare l'altra no ci sono delle tecniche molto avanzate che fanno sì che io possa riuscire a tirar fuori e raccontare certe storie in maniera molto più professionale grazie Giulia quindi un lavoro di grande equilibrio e soprattutto di grande diciamo uso perfetto della cromia noi abbiamo finito volevo dire qualcosa io qui mi ero preparato delle cose veloci perché pensavo di riuscire a farle vedere però colpa mia se voi abbiamo ancora dieci minuti li abbiamo giusto per far vedere e chiedo appunto al regista se volevo far vedere come dare dei consigli velocissimi ecco questo è importante allora per chi chiaramente queste cose insomma un po' le mastica Francesca quindi parlo adesso direttamente alle persone ecco questo che voi vedete molti fotografi lo conoscono è il color checker cosa vuol dire per chi non lo conoscesse che il problema fondamentale è quello di fare una foto che non abbia delle dominanti bene allora se noi avessimo per ogni foto questo che appunto si chiama color checker faremo questa cosa qua cioè prenderemo il contagocce andremo a puntare sul punto grigio quando si dice non ho messo a posto il punto bianco in realtà si vuol dire non ho equilibrato i colori con il grigio io clicco qua sopra e i colori come avete visto prima dopo si mettono a posto andiamo più veloce togliamo questo quindi questo è giusto per dare il senso di quello che voglio dire ma io avevo portato questo esempio perché a quel punto dico benissimo facciamo vedere qualcosa di più io ho questo allora sono andato a fare la mia figlia andata sulle giostre sto facendo la finta di uno che va fa una foto però quando torno a casa la trovo eh mamma mia che dominante che è venuta è tutta verde ok come la metto a posto ok ci sono vi faccio vedere le cose più veloci la più veloce di tutte è questa io vado a prendere quindi non vado a fare un altro livello per cui aumento il peso della foto ok siamo passati da 9 megabyte a 18 megabyte ok no via questo non mi serve niente io che cosa faccio prendo un livello di regolazione curve ok che cosa faccio la cosa più semplice per mettere eh si fanno cose migliori ma la più semplice per dirvi va bene non vi lascio andare senza avervi detto almeno una chicca velocissima per rimettere a posto questa eh foto togliendo il più possibile quella che è la dominante se voi guardate qui questo è il pannello delle delle curve mi avvicino un po' come vedete ci sono questi tre ok eh contagocce bene torniamo a questa visualizzazione se io vado a prendere quello di mezzo perché questo è il nero questo è il bianco e questo è il punto grigio con questo che è diventato come vedete lo vedete qui un un mirino adesso mi dirigo metto questo così lo vedete io devo devo scegliere in questo caso quello che secondo me quello che secondo me è il punto che sicuramente è grigio sicuramente può essere un pezzo di acciario o qualunque cosa quindi io dico bene sarà questo questo potrebbe essere grigio ma potrebbe anche essere colorato però questo a meno che non è stato dipinto insomma mi dà l'idea che sia grigio bene io non faccio altro che con questo con questo strumento qui vado sul punto che penso sia grigio e clicco che bello mamma mia con un solo passaggio ho riallineato i colori sì non in maniera professionale ma quantomeno torno a casa e dico moglie guarda che bella foto ho fatto a mia figlia ok tra l'altro Giulio c'è una domanda ancora di Mario che dice che vuole chiederti ha detto posso chiederti Giulio una richiesta piccola chiede Mario sì sì Mario vai comunque molto molto interessante tra l'altro non c'è la richiesta Francesca come? non è arrivata la richiesta ah non è arrivata ah ok continuo velocemente su un'altra cosa un'altra cosa veloce per eventualmente chi dovesse avere dei problemi così semplici ma non sa come risolverli ecco in Photoshop perché io devo fare pensando che c'è quello che ne sa tantissimo pensando anche quello che non ne sa niente quindi faccio vedere un altro velocissimo se non trovate lo strumento che vi sto per far vedere lo trovate qua dentro e vi faccio vedere qua dentro dove qui ci saranno tre puntini e io per esempio vado a prendere eccolo qua strumento occhi rossi come si usa lo strumento occhi rossi lo vedete qui è come fare un rettangolo di selezione se io voglio togliere gli occhi rossi non devo prendere cliccare e trascinare perché viene male ok molti non sanno come utilizzarlo bisogna prendere quasi tutta la pupilla ecco che con un solo passaggio clicco trascino io ho qui l'ho fatto meno bene io ho eliminato il riflesso rosso quindi se ho fatto la foto a mia figlia con il flash o piuttosto con eccetera eccetera in questo modo io ho già risolto tutto ok bene molto chiaro grazie grazie mille Mario ancora non ah eccolo qui Mario dice ah vabbè è una battuta va bene comunque insomma io adesso ho fatto vedere ma Mario ti ci metti pure tu solo quello ci va che si massacra comunque ho fatto ho fatto quello che il più vabbè un attimo di presentazione perché chiaramente il discorso qual è che io sinceramente ho volevo avrei voluto far vedere più cose perché perché se le persone possono essere interessate a questo tipo di io mi rendo perché questo Francesca mi ha chiesto di eventualmente parlare un po' della mia professione di far vedere qualche cosa e io ho detto guarda ok io sono disponibile come come ho detto a lei ma sono disponibile se la gente dà un messaggio e cioè si iscrive a questo canale mette il mi piace a questo video chiaramente a quel punto se vediamo che cresce qualcosa in questo senso possiamo pensare di fare qualcosa di più come dire a questo punto Francesca starà più zitta io sarò più tecnico e partiremo dalle domande che anzi se qualcuno vuole fare delle domande per un'eventuale prossima trasmissione la la trovate comunque poi scritta sul ma comunque ve la dico la mail è blog chiocciola ritoccanto ritoccando punto com se noi vediamo se io vedo che il che so il segnale iscrizione al canale mi piace a questo video a quel punto possiamo Francesca questo che puoi darmi cioè ammettere che te l'ho detto perché ho detto Francesca io mi metto a fare questa cosa se vediamo che la gente è interessata infatti io invito tutti i miei ascoltatori appunto a mettere mi piace perché io ci terrei moltissimo ad avere Giulio perché onestamente imparo anch'io e finalmente potrò chi è che l'ha scritto è di 8 giugno come? non lo sapevo neanche io sì ecco Giulio sarà l'8 di giugno e quindi invito tutti gli amici naturalmente in ascolto a mettere il like perché Giulio verrà appunto però naturalmente ecco questo lo devo dire sì vengo nel momento in cui so che c'è qualcuno che ascolta perché qui stiamo parlando siamo a musica in allegria allora se la cosa interessa bisogna che qualche messaggio arrivi perché se se la gente non perché la post-produzione ma io credo di sì Giulio perché dei feedback li abbiamo avuti no no ma quello che voglio dire se la cosa può interessare no se chiedo magari a Michele si può scrivere blog chiocciolaritoccando.com se se c'è gente che vuole sentire di queste cose ben volentieri io ne parlo cioè io ho avuto per un po' di anni del blog dove quando potevo davo delle indicazioni ho fatto anche dei video insomma tutorial però siccome questo è il tuo salotto musica in allegria ma io ti invito perché in questo modo così vi chiedo carissimi amici mettete il like perché così finalmente capirò e cercherò di migliorare me stessa è l'unico modo perché tanto mio fratello non è che mi dà lezioni l'unico modo è farlo qui quindi so che mi volete bene che mi seguite io vi chiedo questa gentilezza così l'otto di giugno io piano piano imparerò quando sarà tornerà nuovamente giugno io piano piano imparerò sempre di più dice il nostro guido bellissima serata molto interessante arte tecnica e grande simpatia è vero questa è la nostra chiave vicente carissimo guido perché se mi arrivano le mail capisco che livello devo affrontare se neofiti piuttosto che gente amatorialmente vuole incominciare oppure anche per i professionisti magari no perché chiaramente io quando facevo i workshop i professionisti venivano nel mio studio a prendere lezioni perché lì si diventa troppo tecnici ma livello medio basso o medio alto lo gestiamo però se mi arriva la mail dove io capisco che gli argomenti che vogliono che siano trattati possono essere accessibili alla gente se c'è tanta gente che vuole vedere queste cose allora si va bene benissimo allora io ringrazio tantissimo Giulio di questa bellissima chiacchierata ringrazio i nostri amici che voleva voleva partecipare Francesca come Giulio niente niente dai concludi ecco io ringrazio tantissimo Giulio ricordo appunto ai nostri amici di mandare una mail a blog ghiocciolaritoccando.com come giustamente diceva anche Giulio per avere anche un po' il polso della situazione come Giulio mettete like e iscriversi se no la prossima volta che vengo mi paghi ok allora vi prego mettete il like e iscrivetevi al mio canale ufficiale noi ci vediamo mettere like così mi paga ecco no no dai e noi ci vediamo naturalmente il 22 maggio con Carla Maestrelli e con Giulio ciao Carla ciao un bacio a Carla e noi ci vediamo nuovamente con Giulio l'8 di giugno io ringrazio tutti gli amici ringrazio Giulio ringrazio il mio regista prezioso Michele Nucci e auguro a tutti una buona serata grazie di cuore e una buona serata a tutti ciao 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 Grazie a tutti.